Dopo attenta considerazione, lo abbiamo scelto per colmare la nostra assenza. Egli avrà in prestito il potere di emanare in nostra vece sia il terrore sia l'amore. E per vedere come comanda, sotto le spoglie di un frate, visiterò principe e popolo. Domani mattina devono morire Claudio e Bernardino. Bernardino! Bernardino! Il signor Angelo è scrupoloso, sempre allerta contro il male. Vedremo se il potere cambia le persone e se chi sembra è.